Basta, per me era lì. Questo sembrerebbe buono. Preso. L'ho tirato ben meno o l'ho mirato dentro? Non ho capito dove lo spotto. L'ho tirato pieno. 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 Non si può fare, non si può fare. Anche tu non si può fare. Non si può fare, ma non si può fare. Non si può fare. E' però... Non vuoi. Però se prendi la pietra bene, ti ritorni indietro. Fai con la larga bene. Vedi com'è? Non mica pietra, non è perfetta. Sfuma, perché non si trova. Sfuma, sì. La sfumura. Come si chiama questo qua il billo? Da noi è il bibin. Il bibin. Ma vuoi il billo? Cos'è il tacchino? Da noi è... Come si chiama il dialetto da noi? Al rosto. No, c'ha un nome particolare. Non è il bibin. Il pito. E loro sono quelli che hanno invitato l'italiano. Anche voi il pito. Il pito, il pito, il pito. Vedi, voi siete quelli che avete invitato l'italiano. Lui ha invitato l'italiano. Cinque. Dieci. Non è l'italiano che ha invitato loro. No, lui è contento di questo. No, io sono pienamente contento. Cinque. Si. Hai fatto un brutto rumore. Chi è dato? Diciasette. Quanto era? Diciasette. Inserimento. E allora ci sono datate di me voi? Sì, sì. No, no, io ho dato di più. No, io ho dato 17-18. Ah, io ho dato 14? No, non sono arrivato alla freccia. No, 14, no, cazzo. 14? No, 14. 14? 14 alla roccia. Eh? Non c'è 16 ma c'è il mare. Io ho detto, va bene, sarà 15, ho tolto un pochino salita. Sono dato 18, però sono arrivato per freccia di raccio. Vai su, vai su, vai su, vai su. Vai su, vai su, vai su. Non l'ho tirata male, ero dentro, tutto, a posto. Ho dentro, tutto, a posto. L'ho vista andare via, ma dove cazzo va? Ti ho fatto il conto. Cinco.